ovviamente ovviamente appena messo tutto quanto impostazione sul nostro trabiccolo telefono orizzontale sentite in lontananza sono partiti i trapanamenti stanno tagliando lamiere a rotta de collo stanno rifacendo le facciate qua dietro nei dintorni e ovviamente noi ci subiremo qualche ronzio qualche ronzio questo si può sopportare si può sopportare allora allora puntata numero due di questa settimana 24 novembre 2024 eccola paddy senti tu che queste belle seghe elettriche ciao si buongiorno a te quasi stanno volando tutto e dicono che le temperature dovrebbero pure precipitare no bene io sto già zimarrato quindi sono sono più che pronto per affrontare l'intemperi bella vale ciao ciao piero famiglia auguri che è il compleanno della paddy the queen of lille 22 gradi mamma mia ti devo dire proprio adesso non fa freddissimo e io così sto molto molto bene potrei potenzialmente anche levarla però io mi premonisco sempre quindi qualora dovesse arrivare una una gianna no gianna sabina mamma gianna divento un po più freschetta io mi faccio trovare preparato la queen fa gli anni chat tutti quanti a fare gli auguri alla queen paddy e tanti auguri non non si chiede l'età alberto ciao ben arrivato bella marcolino ben arrivato anche a te e quindi vabbè come festeggi paddy facci sapere facci sapere tu che sei anche una maestra delle arti culinarie ecco vedi 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 che vale ti fa subito gli auguri molto 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 bene vale non chiediamo come va la panza ormai manca sempre di meno mi sa un mesetto perché in fiera avevi detto che era intorno a dicembre 25 dicembre 24 dicembre per natale insomma e quindi stai proprio lì 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 ciao massimiliano ci sta del materiale oggi ti devo dire di sì perché la live nasce in quanto è arrivata un po della roba bonelli da fiera e quindi insomma novità di chi si è portata carrettate appunto in quel di lucca ormai mi trascino povera 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 e quindi dobbiamo dobbiamo mostrare dobbiamo mostrare tra i mostri da mostrare ci sono dei mostri tosti e mostri di legno sentite il rumore oltre le seghe elettriche della c'è anche il fabbro col martello sul legno cominciamo con i box a malivine in a box a malivine in a cardboard box questo non è cardboard ma è poco di legno ed è il cofanetto di tex questo texone ve lo faccio vedere anche di lato perché insomma ci sono delle belle delle belle scenette né è confezionato molto molto bene eccolo qua e sul retro c'è il contenuto del box su contenuto del box su che prevede tex 755 variant la cavaccata del destino che dovrebbe essere quello di clavio villa variante di tex magazine 75esimo un esclusivo shopper in tela 75 anni di tex e la valletta andata via testè e poi cartolina postale e annullo primo giorno franco bollo tex del 75esimo quindi c'è sbagliata roba tutto questo per 29 euro e 90 prego signori accomodatevi non è l'unico cofanetto è il primo di tre il secondo è quello di zagor 700 pure lui insomma non ha compiuti di annetti eh se rincorrono tex e zagor 29 euro e 90 anche per questo lo facciamo vedere vedete ecco ci sono anche delle vignette di lato e via così e qui c'è il contenuto e riesco a capire se c'è proprio una dama vediamo un po c'è la variant di zagor 700 mecco fanetti dice la pagli ristampa anastatica zenith numero 52 e c'è la dama di darkwood ecco cos'era quell'immagine con zago e cico come pedine la damiera più 24 pedine in legno questo diventa proprio un oggetto da collezione la particolarità non so se si percepisce non si percepisce da qua forse un po si vedete che è in rilievo la scritta zagor in questo caso anche il 700 è in rilievo a differenza degli commenti che abbiamo visto prima d'oggi e anche la scritta tex è in rilievo beh devo dire sono fatti molto molto bene eh assolutamente belli 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 ma non finisce qui perché si si vede ok benissimo c'è anche il cofanetto di drago nero e conan il barbaro forse dei tre è quello che io aspettavo di più perché mi sa che dentro ci sta già tutta quanta la mini eh dovrebbe essere di tre albi quindi allora andiamo a spizzarcelo sui lati come gli altri eccolo qua da un lato conan e dall'altro drago nero e qui vedete anche questo è in rilievo e anche conan è in rilievo e allora il contenuto è infatti dice il box contiene la saga inedita e completa questo l'avevo letto c'è la variante del numero uno e poi il quindi l'uno in variante il due regular e il tre regular e in più e in esclusiva la mappa in microfibra c'è la mappa dell'erondar e la mappa aiboriana di conan e anche questo 29 euro e 90 diciamo che ci avete della legna da portarvi a casa a sto giro ma non è finito qui di bonelli c'è un'altra bel po' di roba diciamo la quasi totalità ma non solo tra le diverse chicche uscite per la non arte abbiamo the 13th history eccolo qua la storia di 13 al prezzo di 19,90 euro yogunov e sente chissà come si va a collocare questa storia non lo so perché 13 ci ho sempre provato a leggerlo è però alla fine mi sono sempre perso ecco questa pure potrebbe essere un'altra se ci fosse un'altra bella riedizione comunque pieno di redazionali e quindi credo che sia proprio un albo che ripercorre la storia di 13 un super ultra specialone eh sì vedete schede su schede personaggi su personaggi molto 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 interessante fico fatto molto bene vi devo dire e il stesso formato questa è una storia che abbiamo visto già diverse volte in diversi formati ritorna Sergio Toppi con la leggenda di Potosi Nicola Pesce editore 17,90 euro e qua c'è il buon Toppi in tutto il suo fulgore il grandissimo gigantesco maestro Sergio Toppi questi sono albi da collezionare ma anche da studiare chiunque volesse intraprendere o ha già intrapreso la carriera da artista Marco il nostro Marco poterà non potrà nient'altro che confermare tutto ciò poi abbiamo una nuova edizione un colosso in tutti i sensi sia per dimensione che per bellezza assolutamente la nuova edizione dell'uomo a voglia dice Marco dell'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge versione cartonata leggermente telatina qua molto bella resistente sicuramente più resistente dell'edizione precedente con le cover che si rovinavano in modo abbastanza facile 25 euro Yoshiharu Tsuge classe 1937 ciao Tyler come va? ce la facciamo andare e qui eccolo qua uno dei maestri del Gekiga che come ormai avrete imparato è un termine che è in contrapposizione a quello di manga il Gekiga è una narrazione più seria il manga più disinibita sciolta divertente poi per non tornare subito in Bonelli vediamo anche Blue in Green che il nostro amico Antonio Fuso ci ha detto essere molto bello e sul quale Sasa aveva assolutamente buttato gli occhi tanto da ordinarne una copia una spolliciata la diamo o no? dice il nostro Sid ciao Luca per una volta ho beccato la seconda live settimanale questo è proprio record record totale e quindi verrà a piovere ragazzi imperdibile l'uomo senza talento ci dice Tyler non potete perdervi questo capolavoro perché non l'avesse mai letto molto bene bella cover questo è molto molto bello Ranvi Anand RK è scritto Jason Pearson Aditya Bdkar e Tom Muller per BD al prezzo di 20 euro abbiamo appunto Blue in Green e guardate cosa c'è dentro qual è la rappresentazione grafica di questa storia ora ci facciamo anche una sinossata ma io la devo leggere non essendoci il vade della sinossi Gianni guardate molto molto bello bella carta bei colori bei disegni tutto molto molto interessante cosa ci dice Eric Dieter un sassofonista con poco successo torna a casa per il funerale di sua madre e per una serie di strane coincidenze si imbatte nella foto di un musicista jazz degli anni 60 scoprire l'identità di quest'uomo si trasforma ben presto in un'ossessione per Eric un viaggio nell'abisso delle sue ambizioni sepolte che eroderà la sua fede nella realtà e lo costringerà ad affrontare l'orrore di una vita di delusioni ecco qua mixa l'arcano e il reale in ogni vignetta ondeggia come musica dice Kilon Gillen sapevo già da tempo che Ram V era uno sceneggiatore eccezionale ma con Blue in Green lo ha provato una volta di più e i disegni di Anard sono stati un'assoluta rivelazione insieme hanno dato vita a musica meravigliosa impacchettata con maestria da Tom Muller questo è uno dei libri più belli da vedere ed emozionanti da leggere che incontrerete quest'anno dice Jeff Lemire addirittura e quindi put an eye put an eye buttateci un occhietto arriva anche Silvia Ziche con nuove prove tecniche di megalomania che titolino questi sono i titoli che piacciono a Gianni corti, brevi, concisi 18 euro com'è che per essere originali non basta essere se stessi ci dice Silvia appunto interrogativo ecco qui le sue vignette mentre continuano ad arrivarmi i messaggi che scritturano mi sono scordato di levare l'audio abbiate pazienza 18 euro l'ho detto mi pare di sì e poi sempre per Feltrinelli Giulio Mosca ci presenta Salsedine c'è anche un sottotitolino storia di un burnout molti di noi sono in burnout ma non possono permettersi di di fermarsi per recuperare ognuno avrebbe bisogno di un po' di tempo per sé eppure la sai una cosa io mi vergognavo a dirlo mi sentivo in difetto mi sentivo un fallito e questo secondo me è un libro molto interessante è di riposo oggi Gianni il pomeriggio si è stato con noi la mattina e adesso è andato a casetta proprio a riposarsi mi ha detto c'era proprio bisogno di fare una pennichella anche questo 18 euro sempre feritrinelli e poi una cosa c'era sfuggita della salda pressa arriva Ramiro una vita da lucertola mini cartonatino bellissima confezione ultra rigido 19 euro e 90 di Frecht e Luca Albanese leggiamo qualcosa una storia non banale senza scorciatoie di quelle che vuoi vedere come va a finire ad avercene dice le ortolani live a surprise semi surprise stile che mi ricorda un po' kill or be killed ci dice Tyler si può spulciare Ramiro adesso ovviamente te lo faccio spulciare leggiamo qualche cosa però Ramiro un po' va malvo invece che lucevotola vive di grandi sogni vorrebbe diventare uno chef stellato ma la strada per realizzare questa sua speranza è lunga tortuosa e piena di ostacoli nel frattempo però bisogna tirare a campare lavorare come portiere di notte è una soluzione ma si tratta di un mestiere noioso e monotono e così Ramiro crea un mondo per passare il tempo un luogo mentale vivace e colorato in cui rifugiarsi quando la realtà si fa troppo pesante un giorno accade l'incredibile viene selezionato per il talent show super chef e all'improvviso tutto cambia andiamo andiamo a vederci Ramiro come chiesto anche da Tiger eccolo qua molto molto carino mi piace questo tratto carta dentro molto buona tranne ecco questa acqua bianca si vede leggermente in trasparenza ma diciamo che non inficia più di tanto la resa mi pare mi pare buona forse ecco leggermente leggerina perdonate la cacofonia però l'edizione mi sembra ultra valida anche perché insomma 19,90 euro salda pressa ha sempre un eccellente rapporto qualità prezzo buono anche lo smello allora lasciamo da parte un po' di manga e buttiamoci ancora su Bonelli come detto prima abbiamo un Maxitex questi sono albi che arrivano sempre leggermente in ritardo da noi numero che era il 38 non ricordo più 9,90 euro 292 pagine una storia completa ed inedita Laramy County andiamo a vedere chi c'è Drento soggetto sceneggiatura Pasquale Ruio e disegni di Roberto Diso ragazzi una figura non storica ma di più cioè Roberto Diso ha più di 90 anni ragazzi eh cioè anche per lui immaginate una persona di 90 anni che deve portare a termine un lavoro di 292 pagine cioè applausi 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 e gliela molla ancora il signor Diso eh molto bravo complimenti assolutamente assolutamente 9,90 euro credo ben spesi perché poi Ruio pure molto bravo Fred mio marito lo conosce è un suo vecchio amico di Overwatch ma dai ma davvero ma pensalo un super nonnino ma molto super poi altre novità lucchesi una variant edition come l'anno scorso c'era stato Tex in cinese a suo giro c'è Zagor 91 anni alla faccia del bicarbonato hai capito hai capito che roba 8 euro a Bonelli si apre al mercato mondiale guardate dentro tutto appunto tutto scritto eh in cinico se non vado Enrico ricco ricco mi ci ficco Indian Circus poi abbiamo un ehm lavoro speciale di eh Martin Mister in onda realizzato in collaborazione con Radio DJ che mi pare avesse il suo eh furgoncino proprio in quel di Lucca la copertina è sempre di quel fenomeno che non mi stancherò mai di dire quanto adori eh Giancarlo Alessandrini e credo che Marco lo conosca molto bene avendo lavorato poi pure lui su eh Martin Mister appunto andiamo a vedere ah ci sono anche degli adesivi di Martin Mister è proprio di Radio DJ eh edizione speciale Lucca Comics and Games 2023 infatti c'è scritto pure qui adesivi come ai vecchi tempi sto facendo un nuovo mister proprio ora gatte ah è giapponese dice Matteo e va bene adesso è giapponese diciamo per la comprensione cambia poco cioè poco allora qui ci abbiamo soggetto e scingiatura Alfredo Castelli con disegni Giancarlo Alessandrini e Alfredo Orlandi eh beh questo è un Alessandrini molto riconoscibile il mio amato Giancarlo Alessandrini possiede possiede una tavola di Alessandrini prima o poi super prima o poi possiederò anche una tavola di Marco Foderà ah 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 c'è sta bene manca l'ultimo ah Alessandrini è il top guarda Marco io lo odoro in maniera proprio schifosa proprio lo amo alla follia lo amo alla follia uno dei miei disegnatori preferiti in assoluto Poi uno dei due fratelli che avevano realizzato la locandina di Lucca, dovrebbe essere la Saffa Nuca, realizza anche la variant di Zagor 700, eccolo qua, il prezzo è 8 euro, tiratura limitata, ciaorino! E dentro, vabbè, come lo Zagor 700 è tutto a colori, come il regular, volete sapere chi lo ha realizzato? E io ve lo dico, soggetto cingiatura Giorgio Giussfredi, disegni e terza di copertina Alessandro Piccinelli, ecco qua, e mi sembra interessante anche dentro, la storia non la conosco, ecco se c'è un personaggio a qua non si lucido ma è affezionato, almeno è Zagor. Poi abbiamo questo interessante libro, lo chiamerei così, in orizzontale, dedicato a Giulia, una ragazza da copertina, prezzo 15 euro, dietro c'è l'immagine della variant, mi pare, del 300, Berardi, Soldi e Spadoni. E il 1998, tra le mani i disegni originali degli occhi dell'abisso, il primo numero di una nuova serie che si chiamerà Giulia, le avventure di una criminologa, una grande emozione, dice Giancarlo Berardi. Dalla sua comparsa in edicola sono passati ormai più di 300 numeri, ma la celebre criminologa di Garden City, creata da Giancarlo Berardi, non perde il suo smalto e tantomeno l'affetto dei lettori. La veste delle sue copertine, così riconoscibili e oramai iconiche, ha incorniciato in questi lunghi anni le opere di due grandi illustratori, Marco Soldi e Cristiano Spadoni. Questo volume offre l'opportunità di ritrovarle tutte raccolte per la prima volta in una carrellata ricca di emozioni. Guardate che belle, ce l'avete tutte quante qua, anche Marco Soldi è un altro autore che mi piace molto, lo incontriamo sempre quando andiamo all'Arf, ci passa sempre a salutare, non è piageria, ma è bravo appunto e basta. Lo conobbi anche molto prima di venire qui al Forbidden, una delle mie precedenti incarnazioni fumettistiche. Poi, sempre parlando di Giulia, abbiamo questo Extra Size, lo possiamo chiamare così, eccolo qui, edizione Violent a territorio limitata, prezzo 11 euro proprio del 300 avventure romane. Sceneggiatura Giancarlo Berardi e Maurizio Mantero, Luigi Pittaluga e Marco Soldi ai disegni, con copertina di Spadoni. E quindi mi auguro che il 300 lo abbiate già letto. Inframmezziamo un po' perché c'è altra Bonelli. Allora, c'erano un paio di titoli della Ikari che Andrea si era persi, il primo è Pumpkin Night, eccolo qua, la copertina è fighissima, dentro mi è piaciuto un pochino meno, 7,50 euro. Un giorno Assumi Nakatani, studentessa liceale, viene seguita sui social da un account sconosciuto denominato Pumpkin Night. Subito dopo aver ricevuto un avvertimento da parte sua, in cui le dice che la ucciderà, compare un'assassina con una maschera da zucca che... Che l'atrucida è? Ma che è sta roba? Anche Kazuya, che casualmente era al telefono con Asuni, viene minacciato di morte. Una volta presi di mira, nessuno può più scappare. Diciamo che di questi tempi è una tematica che non è che mi faccia impazzire, però ci sono appassionati del genere e quindi... Seima Taniguchi e Masaya Okazono, number one. A seguito di questo c'è un autore molto bravo, lo sapete, abbiamo presentato anche qualche altra opera sua proprio recentemente. Mi pare che era proprio una tripletta di cose, di Noboru Rockda, perché vi avevo detto che non mi ricordavo nemmeno che avesse fatto così tanti manga. Al mio caro M numero uno, sette ore e cinquanta. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Non c'è scritto proprio un cippi di merlo inside. No, eccolo qua. Attenzione, si non siamo together. Kobayashi lavora come assistente sociale, cercando di aiutare ex criminali a ricostruirsi un futuro. Quando però gli viene affidato il caso di Kenji Daito, ragazzo accusato di omicidio, Aridaie, un passato che si credeva sepolto, inizia ad emergere a poco a poco in tutta la sua immane tragedia. Riuscirà Kobayashi a redimere il giovane Kenji? O sarà invece Kenji a salvare lui? Pollice in fuori e via di autostop. Salite in macchina pronte a intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta del senso della vita. Abbiamo pagina a colori, corolata all'inizio, non è l'unica. C'è la splishina introduttiva. Ho ammessi... che cosa? Pure io sono un ragazzo da copertina de' lana. Che era Vale? Ammessi? Mi sono perso, perché stavo leggendo. Luca, consigli qualcosa di figo da leggere disegnato da Alessandrini? Guarda, adesso la edizione IF stava riproponendo proprio gli inizi di Martin Mister. Quindi mi viene in mente soprattutto quello, ma c'è anche l'Uomo di Mosca, dice Marco Foderà, ma c'è anche un Texone sicuramente, c'è un Texone, sì, disegnato da Alessandrini. Poi altre opere sue così non mi vengono, perché io sono soprattutto misteriano. Se puoi e vuoi recuperare alcuni special estivi, Martin Merster special, tante storie divertenti e carine. Per la Francia fece un paio di volumi su Indiana Jones. Ecco, qui bisogna vedere se si recuperano anche quelli. L'Uomo, al mio caro M, prezzo 7,50 euro, numero uno anche questo. Alessandrini ti puoi sbizzarrire. A me piace il genere di Pumpkin Nights. Ah, ecco, vedi, Vale è una che apprezza questo splatteroide, è una horror fan, molto bene. Poi abbiamo una edizione variant tiratura limitata ancora per Tex, è il Tex Magazine Tex 75, con le porte del Salon. Tanto Tyler ringrazia Marco, però dentro non c'è scritto, cioè non si può aprire niente. 12, 12 euretti, e nel mentre mi sta venendo da star notire e mi prudo il naso. Un'altra variant, eccola qua, è quella di Dilan Dog. Il Dilan Dog, credo il primo della Baraldi, della sua curatela, se non sbaglio, che è 446, o giù di lì. Mi imprude proprio il naso. Qua sta arrivando a botta d'allergia, invece che a ottobre mi è arrivata a novembre, come lo dico io. Sì, 446, infatti Barbara Baraldi ha il trittico, questo è l'albo quello Furnò, Mari e Nizzoli, che abbiamo già fatto vedere. Questa è la copertina realizzata, credo sempre, dai fratelli Cestaro. Il prezzo è 8 euretti, anche per questo. Ari Change, ritornano le Witch, pure loro hanno fatto qualche anniversario, un uomo senza apostroferà la corrige. Sì, vabbè Marco, ma avevamo intuito, non ti preoccupare. 9,90 euro. Io non avendo mai letto nulla di Martimistrano, trovo sempre un grande scoglio da superare, perché non so da cosa iniziare e ci sono tantissimi numeri speciali e vari. Ti ripeto, puoi approcciarti con la nuova edizione, la ristampa proprio superintegrale, precisa, perfetta, con approfondimenti, delle edizioni IF. Lì ci sono storie veramente epocali, veramente bellissime. Ovviamente non sono tutte delle Sandrini, però te le puoi capare, ma puoi anche leggerti quelle degli altri autori, perché l'inizio del viaggio di Martimistrano è veramente stupendo. Ricordo ancora quello sulla saga dei Re Artù, che è clamoroso. Questo witchetto, Marco perdonami, hai ragione, recuperati pure. Marco, piuttosto, sono leggibili a sé stanti, cioè ci si può approcciare tranquillamente nei numeri che hai scritto tu, che hai disegnato tu. Allora, qui abbiamo questo reboot delle witch. Ricordo ancora quando la mia amica, già da Perissinotto, stava disegnando e aveva disegnato i primi numeri. Qui witch abbiamo, vediamo un po' se la mia vista da cieco. Grazie a consiglio Luca, certo Marco, le controllo sicuro, ma si può iniziare lì da neofita. Ecco la stessa domanda che ho fatto io a Marco. Allora, soggetto a sceneggiatura, Alessandro Ferrari, layout, matite e china, Giulia Adragna, colore chiara di Francia, arancia studio, ottimizzazione colore, Giulia Adragna stessa, lettering Fabio Amelia, sempre arancia studio. Eccolo qua, super coloradissimo. Forse così, a prima vista, il formato del vecchio witch non sarebbe stato male, è leggermente, leggermente ingrandito. Edizioni giunti, giunti, giunti. Poi abbiamo anche un'altra novel per Mi sono reincarnato in uno Slive, Number 5, Docuscio Edizioni, prezzo 14 euretti e passa la paura, storia di fuse e illustrazioni di Mitzvah, no Mitzvah, va va, 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 va che ora, va che ora, piuttosto che ne so, abbiamo ancora 17 minuti per stare insieme, 17 minuti perché io vi rompa le scatole. Arriviamo gli amici della Toshokan! Toshokan! Sale, scende la marea... Allora, arrivano due numeri, due dico, due, 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 questo pare, tre, due numeri dico, due numeri di... la Monella Cie, papapapam, due mini Pumma Manga, questo che sarà, sembra un fumetto cinese, sembra bene, non lo so, adesso andiamo ad esplorare. La Monella Cie, numero uno, prezzo 7,90€, la Monella Cie, numero due, 7,90€, andiamo a vedere se c'è il posterino inside, c'è sempre il posterino inside, questa è la cover, sotto la cover, la modella chi è? Eh, a sapere, Sandokana, la conosce Paddy, è brava, brava, sembra che è la mia stessa età. Allora, la Monella Cie, la storia, nella peri... eh no, invece no, Etsumiyaruki, sembra cinese, non lo so perché, è invece giapponese, nella periferia di Osaka degli anni 70, tra casette di legno e strade sgangherate, la piccola Cie deve prendere le redini del locale di famiglia. Il padre è infatti un fannullone, dedito al gioco d'azzardo, e la madre si è allontanata da casa. Per fortuna la bambina è aiutata dai nonni, e dal combattivo gatto Kotetsu Jig, permettetemi, ma riuscirà a gestire l'attività e allo stesso tempo andare a scuola? Vista la sua grinta, scommettiamo di sì, e questo si vede che è, un manga, diciamo, datato, ma guardate però la capacità di disegno, eh, di Etsumi Haruki, non è fatto così a buffo, è molto più dettagliato, anche in alcuni tratti, ecco, guardate i volti, se non vi ricorda Toriyama, quindi potete pure lo stesso Toriyama aver ripreso da questo, o è volutamente fatto finto vecchio, perché magari ho detto una cifra di K, una cifra di K volate, c'è anche questo simpatico figurino, l'ama falda nipponica, mi piace questa definizione, paddy, andiamo a vedere se si risale, se si risale all'anno di pubblicazione, cipi, 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 original published, 78 invece, Asino Cotto, a voglia se Toriyama potrebbe aver preso spunto, eh che ne so, magari stavano nello stesso studio, chi lo sa, questo è il number two, ok? Va bene, E allora anche la Monella Cie l'abbiamo fatta, ancora un giretto di Toshoka con Yan numero 4, che forse è la seconda testata per numero di uscite che rivaleggia soltanto con vino di zucca che è arrivato al 5 e per il quale la Pabbi aveva fatto anche il concorso per realizzare il posterino all'interno. 6,90€ per Yan e poi altre novità, abbiamo Nostalgia delle Dojinshi di Sawako Yamana, mio Yan stupenda dice la Pabbi, questo delle Dojinshi dice una storia dal sapore agrodolce fra emozioni e ricordi di ragazze che disegnano manga per il mondo delle Dojinshi, le Dojinshi sono tipo le fanzine. Anche Tyler legge Yan, visto unica lettura Toshikan che seguo, questo è il tipo di disegno e che sembra avere un po' di voti come dice Gianni, alternati ma comunque un po' di voti ce stanno. Prezzo 6,90€, non finisce qui perché c'è anche Blossom quando sbocciano i fiori e questo deve essere qualcuno non giapponese però eh, sarà giapponese pure questo ormai sicuramente. Eccolo qua, 6,90€. I boccioli del leggendario Ponte dei Centofiori rappresentano i bambini che nasceranno, bianchi per i maschi, rossi per le femmine. Ma che cosa succede se il colore esterno è differente da quello interno? Ah, mi hanno mandato le prove di stampa se avessi vinto e sicuramente erano note fighe. Ecco qua c'è anche una cartolina, il matrimonio egualitario. Eccolo qua. Andiamo a vedere se riusciamo a capire. È un marchio di edizioni. Gaea Books Impaginazione lettering Non lo so, l'autore è DS Che sembra, cioè la Citroën Gli adulti hanno sempre detto a Yu Fan che una ragazza deve comportarsi come una ragazza. Imparare a suonare il pianoforte, indossare la gonna, essere tranquilla e discreditata piuttosto che rumorosa e ruente. Sotto la pressione psicologica della madre e della nonna, Yu Fan ha un'altra scelta che nascondere la sua natura e fingersi quella che vogliono che sia. Ma un giorno incontra persone che hanno deciso di togliersi la maschera e comprende che anche per lei può esistere un'altra vita. Molto interessante, vediamo. Guardate che bello il posterigno. Eccolo qua. E cara Paddy, ritentar non nuoce, no? Magari ci riprovi un'altra volta e potrebbe dire anche meglio. Si riprosegue, si riprosegue. Abbiamo due versioni inglesi per due albi storici da Bonelli, appunto. Il primo di Giulia e il primo di Nathan Never. 8 euro per Giulia, 7 euro per il Nathan. E poi il secondo del Morgan Lost Nuove Origini. Non ricordo chi mi aveva fatto un commento circa il font. Non ho capito però a che cosa si riferisse. Mi chiedeva se il lettering è importante. Il lettering è indubbiamente importante, però non capivo a cosa ti riferissi e la corrispondenza con cosa. 4 euro e 90, la luce sopra gli oceani. Claudio Chiaverotti, soggetto a sceneggiatura. E Matteo Mosca ai disegni. Ecco qua. Il bravo Matteo. Poi arriva un altro capitolo di Zombicide con Black Plug numero 1, il lato oscuro, cartonatissimello, 22 euro. Vediamo un po' chi c'è dentro in collaborazione con la Cool Mini or Not. Soggetto Stefano Vietti e Davide Preti. Disegni di Francesco Rizzato. Poi copertina Paul Bonner. Colorazione Mattia Iacono e Paolo Francescutto. La sceneggiatura è Vietti, mentre il soggetto era Vietti e Preti. Questo è il contenuto. Tutto, tutto, tutto corolato. Eccolo qua. E via così. Molto carino anche questo. Poi esce in versione Librone, la doppia storia di Recchioni e Roy, RR. Morte in 16 noni. Eccolo qua. Super cartonato, 27 euro in bianco e nero. Ma qua le tavole di Roy assumono una dimensione gigandesca. Eccolo qua. Bello, bello per gli appassionati del nostro indagatore dell'Incubo. Voilà. Non mi c'entra più niente. Poggiamo al retro. C'è un altro album ancora più grande di questi che vi ho mostrato adesso. Ultime due uscite per Toshio Kahn. My Soul Mate. Fumettisti gemelli. Prezzo 7,90 euro. L'amore per i fumetti è talmente forte da spingere un fumettista a disegnare anche dopo la morte di Wage. E questo che sarà, coreano o cinese? Non lo so. Cinese però, credo. Guardate che belli disegni dentro. Belli questi volti. Abbastanza espressivi. Questo c'ha il naso di Riccardo però. Eccolo qua. E poi chiudiamo sempre con la... Ecco, qua sta a far casca tutto. L'ultima uscita della Toshio Kahn e poi decidiamo due bonelli. Mayfly Island. Questo costa 12,90 euro. In un mondo post-apocalittico. Sopravvive fra realtà e leggenda un luogo incontaminato. L'isola di Mayfly. Oscura minaccia o preziosa speranza per l'umanità? E qui sono curioso di vedere il posterone com'è. Il posterone è grandone ed è orizzontalone. Così lo vedo completo insieme a voi. Bello questo Mayfly Island. È cinese, si può spulciare? Adesso lo spulciamo. Credo di sì che sia cinese dai nomi. Shang-Chao-Li Evergreen Ye. Ye. Ah, tipo stile pittorico migliazzacchiano. Quando studiato. Eh, guardate che bello, eh. Molto bello. Adesso, mi sembra un bel prodottino. Bei colori. Molto, molto, molto bello. E si chiude con... Allora, abbiamo questo gigantone. Dopo l'ennesima edizione pure della Valle del Terrore di Magnus. Abbiamo un Extra Size. Bello vero? Sì, 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 sì. Anche Vale e Tyler concordano. Di Nizi e Aurelio Gallepini. Il segno del serpente. 36,90 euro. Gigantesco. Anche questo nel formato. Guardate che robette che faceva Aurelio. Eh, vabbè. Anche lui un gigante che merita appunto un formato gigante. Eh, quante storie. Non ho letto di queste qua. Disegnate le Gallepini. Uh, bello, bello, bello. Per collezionisti veri. Veri. E chiudiamo con... Come abbiamo iniziato. Mio padre ha 75 anni e aspetta questo cartonato da morire. Ah, lo vedi? Mi fa piacere. No, da morire però. Oh, eh. Cioè, 75 anni è ancora giovane. E come abbiamo iniziato con dei cofanetti. Chiudiamo con l'interno di uno di essi. Dragoneo Conan il Barbaro. Il primo albo. Eccolo qua. In quarta di copertina c'è la cover anche del secondo. Eh, sì, scusa, faceva strano. Hanno 75 anni e aspetta questo cartonato da morire. No, eh, no, eh. Le gemme di Aquilonia. Prezzo 4,90 euro. Abbiamo, abbiamo, abbiamo. Soggetto e sceneggiatura. Luca Vietti. Eh, sì, buonasera. Luca Enoch e Stefano Vietti. Disegni, copertina e colorazione. Perché anche nello zero aveva fatto tutto lui. Lorenzo Nuti. Lettering di Marina San Felice e Antonio Esposito. con il progetto grafico di Cristina Paglialunga. E guardate quanto è bello. È tutto corolato, eh. Tutto corolato. Eh, ce lo vedrei, Marco Lino Foderà, su un bel Conan, eh. Però Marco lo pubblica. In America lo pubblicherebbe, Marco. Ecco qua. E piuttosto, eh, magari direcidebbe, eh, lo so, lo so. Zagor contro Tarzan, no, ancora non l'hanno fatto. E, ehm, ecco, per questa battuta mi sono scordato quello che volevo chiedere a Marco. Piuttosto, Marco, hai preso il primo spillato del nuovo Conan il Barbaro uscito per Panini? E dentro i disegni non mi sembrano niente, niente male. Albo, molto curioso. Non so se, eh, aprire un cofanetto, zottarmelo e leggere tutto di fila o aspettare mese per mese. Boh, magari qualche amico solo compra e me li passa. Così, me li leggo tutti e tre. Che dirvi? Per oggi è tutto. Alla fine è venuta fuori una puntatina da... Eh, una quarantina di minuti. Eh, Roberto della Torre. Cioè, forte. Cioè, a me è piaciuto proprio tanto. Bravissimo emulatore di Boucher. Ma, infatti, i richiami sono proprio quelli. Bravo. Eh, sì, tutti quanti abbiamo pensato la stessa identica cosa. La storia, però, la voglio leggere per capire se è qualcosa di valido o meno. Per i zigni ci siamo. Direi che è tutto. Io vi auguro un buon fine settimana. Ci appuntamentiamo alla prossima settimana. Guardate l'info box qualora voleste supportare il canale Canile con link offrirci un caffè e andate sui nostri social è un po' marchigiano social un po' che ne so nel lato orientale italico sulla costa ionica fate quello che va fare insomma pure su TikTok stiamo a mettere scenette però no come quelli bravi cioè la Paddy la Paddy lo sa che noi facciamo le scenette quelle stupide però abbiamo messo una scenetta sui CGC su TikTok che ci hanno chiesto una cosa veramente fantastica andatevela a vedere vi abbraccio le battaglie sono tante vieni avanti cartonato gigante e che cipi di merlo vieni sempre su tutti quanti voi vi abbraccio state in gamba peace